La notte di Israele La notte di Israele La notte di Israele Scusate, è ricomparso tutto. Do la mia parola al mio collega Lorenzo Trombetta che ci dà un'apertura generale della situazione e del volume soprattutto. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie a Palazzo Ducale. Molto contento di essere tornato qui a Genova dopo diversi anni di assenza nel contesto di Limes. Purtroppo a causa delle vicende medio orientali vengo chiamato in causa più spesso in questo periodo. E' soprattutto contento di essere tornato con Laura con cui facciamo carte. Lei le disegna ovviamente. Io soltanto sono un suo ispiratore dal terreno da più di vent'anni. Presentiamo oggi il volume La notte di Israele che dal titolo ci fa capire sia per gli esperti di Limes, ovvero i lettori assidui che conoscono la modalità di lavoro della rivista, sia per quelli non a conoscenza di certi dettagli. Già dal titolo capiamo che la prospettiva scelta per questo numero mensile per raccontare un conflitto armato e una crisi politica assai più prolungata di questo conflitto armato, il centro è Israele. Non perché oggettivamente il centro sia Israele, ma perché provando a dare all'Imes ogni volta delle prospettive soggettive dei vari attori coinvolti nei conflitti armati e non armati, si sceglie di dare voce e un'angolatura critica rispetto ad altre angolature che possono essere scelte. Ovviamente il racconto che si fa nei media italiani ed europei in particolare è sicuramente un racconto che parte dal 7 ottobre del 2023, quando una certa cronologia è cominciata per raccontare degli eventi e l'Imes, come sapete, da anni racconta la questione israelo-palestinese e in generale la questione medio orientale con una cronologia assai più dilatata, sia nel passato sia provando a proiettarsi nel presente e nel futuro. L'Imes, come sua tradizione, divide il volume in tre parti. La prima è dedicata al centro della rappresentazione soggettiva, in questo caso quindi Israele, e la prima parte si intitola Israele contro se stesso, quindi qui troverete gran parte delle prospettive degli autori israeliani o comunque che riflettono la pluralità di voci del dibattito sia interno allo Stato ebraico sia attorno allo Stato ebraico. E a questo poi la dimensione di Israele si deve allargare per guardare effettivamente a Israele inserito nel suo contesto geografico, politico, geopolitico, con uno sguardo principale diretto all'Iran, che è il principale antagonista, e poi qui senza in qualche modo raccontarvi il contenuto e il volume, il principale antagonista, per certi aspetti il nemico migliore che Israele possa avere nella regione, l'Iran con una serie di articolazioni arabe, non iraniane, non persiane, a partire da Hamas, nella striscia di Gaza, Hezbollah in Libano, di cui c'è un mio approfondimento, e tutta una serie di altri attori che oggi proveremo, grazie alle carte disegnate da Laura Canali, velocemente a raffigurare. L'ultima parte è la guerra degli altri, si intitola così, offre prospettive russe, turche e anche una prospettiva italiana, che c'è una prospettiva italiana. E a tal proposito chiedo, non so se alla regia o a Laura, di partire con l'ultima delle slide che avevamo preparato, l'ultima perché in senso circolare ci fa partire dall'inizio, ovvero cosa centriamo noi, Italia, sistema Italia, italiani in senso ampio del termine, con questa guerra o con questa notte di Israele. La carta che stanno preparando offre una prospettiva, come spesso l'IMES fa, in qualche modo appare deformata rispetto alla cartografia classica, con un mar Mediterraneo che si allunga verso l'Oceano Indiano. Eccola, perfetto. E questo è il rosso qui. Do fastidio alla mia testa? Sposto? Ok. Perché il pulsante è rosso. Lo vedi? Sì, lo vedo. Lo riesco a puntare. Mettiti un po' davanti, eccolo. Mi sentite se parlo senza microfono? Lo puoi staccare? No, ma se mi sento. Per la registrazione, però. Adesso devo recuperare il puntatore. Eccoci qua. Ecco, noi siamo qui, con Genova qui. L'altro porto principale di cui dobbiamo tener conto è Trieste. Ecco, immaginiamo che i porti di Genova e Trieste sono naturalmente collegati non soltanto con il Mediterraneo, con le sue estremità sudorientali, quindi Gaza, Libano, Israele o lo stretto di Suez, ma si prolunga fin verso lo stretto di Bab el-Mandab, dove una dimensione del conflitto armato, come forse sapete, è in corso da novembre del 2023, da poche settimane dopo il 7 ottobre. Ne parleremo poi con un focus più dettagliato a proposito del Mar Rosso. Però ecco, guardando in una prospettiva italiana, non possiamo ignorare la necessità italiana di avere un mar Mediterraneo stabile e sicuro, ma soprattutto un mar Mediterraneo aperto verso l'Oceano Atlantico con Gibraltar e Suez, e in particolare lo stretto di Bab el-Mandab tra lo Yemen e il Corno d'Africa, verso l'Oceano Indiano. Tutto questo complesso di conflitti, in questo momento molto caldi, ci riguarda da vicino. Non mi prolungo molto, anche perché sarebbe utile avere poi degli approfondimenti con le vostre domande. Do la parola a Laura. Questa mappa si nasce proprio con questa pendenza, diciamo, fatta apposta per far vedere l'Italia che sta proprio quasi come un trade union all'imboccatura del canale di Suez. Questa è stata realizzata, è stata aggiornata per questo volume, però è stata lavorata per un volume più dedicato al mare, ovviamente. Però ci stava bene, perché noi abbiamo diviso pure un po' per macro-regioni le influenze. Come vedete queste zone qui, questo puntatore è meraviglioso, tecnologico, ma forse il mio è meglio. Però, eccolo sì, area di influenza turca, questo giallo zucca, questo arancio mondo arabo in crisi, area di influenza iraniana, poi vabbè nei territori ucraini occupati militarmente. Se notate, io nello Yemen ho messo solo una macchia di colore, perché è la zona occupata dagli usi. Ma lo Yemen, come in altri territori, come la stessa Ucraina, come la Libia, come la Siria, noi dobbiamo fare uno sforzo, non dobbiamo più pensarli come degli Stati compatti, uniti, come siamo abituati a vederli sull'Atlante, perché non c'è niente di più falso attualmente. E pensare che all'interno di queste macchie di colore, che qui, appunto per semplificare, c'erano già tanti elementi, l'ho messa uno solo qui nello Yemen, ci sono anche dentro delle altre forze contrapposte alle stesse. Il Medio Oriente è sempre difficile, diciamo, vedere le alleanze, perché dipende molto anche dal momento, dagli interessi o cosa conviene fare di fronte a una data crisi. È normale, no, per il Medio Oriente, vero Lorenzo? È proprio una cosa endemica. Poi, diciamo, la cosa principale in questo momento è pensare nei confronti della crisi. Pensate che nel giugno 2023 sono passate 25.911 navi, mentre nel giugno 2024 20.148. Dice, non è un calo enorme, ma chiaramente è un calo che si rivolge soprattutto a noi. Ci sono anche dei dati del 2024 che indicano che i nostri porti hanno anche tenuto abbastanza botta, diciamo come si dice in gergo, così familiare. Però bisogna invece andare a vedere, allargare un po' meglio lo sguardo, perché la circonnavigazione dell'Africa, che ha comportato la deviazione delle rotte, si è fermata soprattutto a Tanger Med e in Spagna, al Geciras, il porto che è stato più sotto pressione. Infatti, perché i nostri porti non sono calati? Perché hanno dovuto trasportare container, trasbordare container dalle grandi navi ferme in rada in Spagna, che non ce la facevano entrare perché il porto non sosteneva tutto il traffico, trasportarle poi in Italia. Quindi questo aumento, diciamo, che noi vediamo, probabilmente l'anno prossimo non lo vediamo più se la crisi persiste ed è molto probabile che la crisi persisterà, perché non è una cosa di facile soluzione. Uno degli aspetti di questa crisi nello Yemen è anche dovuto al fatto che gli UTI sono alla ricerca di una conferma che esistono, cioè che quello ormai è uno Stato, tant'è vero che noi possiamo vedere le loro modalità di combattimento, che sono molto organizzati e sono stati in grado di localizzare navi, perché noi adesso lo pensiamo in modo così un po' astratto, ma non è così semplice localizzare durante una rotta la nave di chi appartiene, perché per esempio le navi cinesi e russe non vengono colpite. Quindi loro sanno chi sta passando e tutto questo comporta chiaramente un'intelligence e un'organizzazione di alto livello. Sono senz'altro aiutati dall'Iran, sono senz'altro aiutati dalla Federazione Russa, questa è una notizia degli ultimi dieci giorni, però a parte tutto questo non sono dei burattini di questi grandi potenze. Potenza, diciamo, la Federazione Russa e l'Iran hanno a modo suo una grande potenza dell'area, ma sono un'entità a parte. Ecco, questi sono secondo me dei ragionamenti che noi dobbiamo cominciare a fare se vogliamo guardare un po' in faccia questo mondo che è così complicato. Io passerei forse all'altra, ecco, no, un'altra piccola cosa, che poi forse lo vediamo in un'altra mappa più nel dettaglio. Naturalmente l'area che però ha subito un colpo veramente quasi mortale sono i porti del Mar Rosso, ma poi vi farò vedere di volta in volta quello che è accaduto. E quindi, diciamo, noi siamo naturalmente interessati a vedere quello che ci riguarda in particolar modo, però anche le altre aree, adesso non è colpa mia che sto cliccando, ma ecco, adesso torniamo un attimo indietro e ripartiamo da questa. Andiamo a Gaza. Lo dico un po' alla romana, ma anche i miei colleghi, quando parliamo di Djibouti, dico non è Djibouti, non so, mi si è aperta una tendina, non sono abile in questo computer. Ok, allora, qui scendiamo proprio un po' nel dettaglio di una zona che io avevo studiato la grandezza al festival dell'anno scorso anno, visto che siamo sempre a Genova e l'anno prossimo, 7, 8 e 9 febbraio, torniamo qui. E quindi avevo paragonato Gaza alla Municipalità di Genova per darvi proprio l'idea di quanto è grande. Mi pare che qui siete circa, nella Municipalità, 540 mila persone e lì sono 3 milioni, o quantomeno erano, perché 500 mila dovrebbero essere purtroppo morti. Gaza da disegnare è veramente complessa, giusto? Più o meno? Più di 40 mila, scusate. Però insomma, sono tutti numeri così, perché immaginate, non si arriverà mai quella cifra che ho detto io sbagliando, ma sicuramente è tutto un calcolo che noi vedremo negli anni avvenire. E questa è una striscia piccola, come potete immaginare voi conoscendo il vostro territorio, ma in questo momento è completamente stravolta rispetto all'ultima mappa che noi abbiamo fatto della striscia di Gaza, perché gli israeliani sono penetrati dentro la striscia e soprattutto mi dispiace che ci sono tanti colori, tante cose, ma è inevitabile. Allora, adesso lui entrerà in contatto con il nostro puntatore, spero. Comunque, intanto vi comincio a spiegare. le aree, diciamo, queste viola, i campi profughi, quest'area qui, sono queste macchie, quindi non questa, perché adesso con questo schermo è un pochino, i colori si confondono un po'. Ecco, allora, sono qui. Questo, questo, qui, qui, ecco. Invece questo che qui sembra un po' più viola sulla rivista Azzurro è proprio la zona, questa area di operazioni di sgombero israeliane, cioè voglio dire che è una zona di cui hanno fatto un po' piazza pulita e sgombero, ci hanno chiesto anche ai palestinesi di andare via perché loro sono passati su questo territorio e in qualche modo lo tengono sotto controllo. La cosa più importante di tutte è questa strada, questo corridoio Nezarim che nasce da questo Gate 96 che è un valico che hanno creato dopo il 7 ottobre per entrare, quindi, diciamo, è nato quasi come un buco in una rete, adesso non ho idea di come sia, però, insomma, forse un po' più strutturato e c'è una strada che arriva fino al mare e queste stelline che vedete sono degli avamposti, secondo osservazioni satellitari perché appunto questa mappa è stata fatta incrociando diverse fonti e la NASA sta tenendo sotto controllo questa zona per vedere che cosa stanno facendo. Sostanzialmente, cioè, in costruzione sembra una base, ma comunque la costruzione sta andando avanti anche mentre noi parliamo, ovviamente, e altri luoghi, sempre questi con la stellina, che sono meno, non saranno delle basi, probabilmente dei posti di sicurezza, dove loro possono osservare e tenere sotto controllo questo corridoio. Ma questo corridoio che cosa fa? Taglia in due, cioè separa la parte di Gaza Nord con tutto il resto, molto presumo, probabilmente ne nascerà un altro, un po' più giù nel tempo, perché l'obiettivo poi dopo vediamo, dal punto di vista strategico, è di spezzettare tutta quest'area come un po' è oggi la Cisjordania, in modo tale da poter passare, averla proprio più, separare, insomma, le fazioni, anche impedire il movimento all'interno. Che già, diciamo, noi dobbiamo fare un grandissimo sforzo per capire, immaginare, metterci nei panni di questa situazione, in un luogo così piccolo, non poter uscire, perché sono sigillati dentro, in tanti, in più, all'improvviso arrivano, non parte adesso, ma comunque non è che è da adesso che arrivano bombe, naturalmente. Quindi, insomma, è una condizione di vita, io questo lo sto dicendo dal punto di vista analitico, cioè di poter pensare a come ci si può sentire, perché questo, se no noi non riusciamo proprio, cioè è impensabile riuscire a calarsi in un luogo dove sono generazioni di persone che sono nate e cresciute con la guerra, perché sei una persona diversa, però fare questo pensiero ci può aiutare anche a capire le reazioni che hanno queste persone e quello che sta succedendo, la violenza che c'è in questo, perché non voglio dire che è normale, perché non dovrebbe esserlo, però purtroppo nascere e crescere in una condizione del genere comporta tantissime persone, dicono, anche gli americani stessi dicono che se fossimo nati a Gaza probabilmente avremmo l'opportunità solo di essere dei terroristi, perché chiaramente per pensare di migliorare o di uscire, quello è il modo. Quindi questo lo dico sempre perché è importante. Poi secondo me c'è un punto che va notato, allora questa zona a righe verdi oblique, questa Alma-Wasi, zona umanitaria, quella dove hanno invitato tutte le persone che stavano in queste aree dove hanno chiesto lo sgombero, di andare e concentrarsi qui. Ma come potete vedere, vedete questo tratteggio celestino e quest'area celestina che corrisponde alla massima estensione dichiarata dell'area dalle operazioni israeliane. Quindi che vuol dire che quest'area qui è tutta un'area che per loro ci si può passare sopra, si può invadere. Quindi non sei sicuro anche in questa zona qua. E dal disegno questo si può vedere sovrapponendo tutte le informazioni che danno loro stessi. Considerate che io queste informazioni, in questo caso è tutto un po' incrociato, però Institute for the Study of the World è un think tank americano, però il direttore mi pare sono ucraini e loro osservano anche, guardano molto la guerra ucraino-russa. Inutile dirvi che essendo ucraini ovviamente lì c'è qualcosa che va valutato sotto altri aspetti, sotto altri siti per essere corretti fino in fondo. Però sono molto bravi, molto analitici, molto dettagliati sul territorio. Qui ci sono con la crocettina blu, adesso questo ci mette un po' a riattivarsi, ho fatto l'errore di spegnerlo. Questi pallini neri che vedete lungo il confine con la croce bianca sono i valichi che sono tutti chiusi. Poi c'è questa strada qui che è il corridoio a Filadelfi, che è una strada che serve per il controllo sempre della striscia dal punto di vista israeliano. Infatti io ho messo in rosso con i pallini tutte le zone che sono sotto il controllo israeliano ma che sono anche strategicamente molto rilevanti. Quando abbiamo finito di fare la mappa in questo campo profughi era appena stato tutto circondato e chiuso. Ho letto di testimonianze. Se andate sul sito di Betselem, che è israeliano, trovate tutti gli aggiornamenti di quello che succede, almeno i palestinesi che riescono ancora a comunicare con l'esterno. C'era una donna che diceva che siamo chiusi dentro, non possiamo né uscire né entrare. Il giorno dopo è stato bombardato il campo profughi. Quindi ecco, qui diciamo, quando noi chiudiamo un volume purtroppo la situazione evolve rapidamente. Poi ci sono queste aree qui in diagonale rosso, che sono delle zone dove, abbiamo avuto delle informazioni, che sono zone dove i guerriglieri spuntano da sotto i famosi tunnel e fanno delle azioni di controoffensiva naturalmente per respingere e poi scompaiono nel loro modo di agire. Passerei la parola a Lorenzo, che così con la sua analisi ci aggiunge qualche informazione in più su questa situazione. Grazie Laura. Ma velocemente Laura ha già descritto molto nel dettaglio la carta su Gaza. Paragonandola un po' alla carta della Cis Giordania, la possiamo mettere. Troviamo in qualche modo la stessa strategia di medio e lungo termine di Israele di tornare a spezzettare un territorio e di far sì che all'interno di ogni enclave si creino dei posti di sicurezza e magari in futuro, per quanto riguarda Gaza, anche una nuova modalità di insediamento. Ricordiamo, tanto per fare una brevissima ricapitolazione storica, che l'esercito israeliano si ritira da Gaza nel 2005, 19 anni fa, ma che per lunghi anni, fino al 2005, Gaza era puntellata di vari insediamenti, di varie colonie israeliane. Si fa sempre più strada con il governo di destra guidato da Benjamin Netanyahu, si fanno sempre più forti le voci di segmenti dell'opinione israeliana e di certi attori dell'attivismo politico israeliano di tornare a colonizzare Gaza. Ecco la dimensione in estremo movimento che ha raccontato Laura da un punto di vista strettamente militare e anche del controllo dei flussi dei profughi che si spostano da una parte all'altra di un territorio contenutissimo, possono indicarci che forse l'opzione di una nuova occupazione della striscia di Gaza con un possibile futuro reinsediamento parziale, forse nella parte nord non è poi così lontano da venire. La parte nord tra l'altro è quella più vicina agli insediamenti costieri della parte di Israele che poi sono stati colpiti direttamente il 7 ottobre, quindi c'è anche una sorta di principio di sicurezza da parte di Israele di creare anche dentro Gaza delle zone cosiddette di sicurezza per garantire la protezione dei cittadini israeliani che si trovano nelle zone più vicino al confine nord. Andrei se è possibile su quella del Libano dove, riprendo il puntatore, dove l'idea della zona di sicurezza di Israele la vediamo con maggior forza rispetto, con maggior anzi scala geografica rispetto a quella di Gaza. Ora non mi dilungo qui nella cronaca di quello che sta avvenendo, di quello che è avvenuto e di quello che avverrà, un po' perché nel volume di Limes trovate diversi spunti di approfondimento, un po' perché appunto non abbiamo oggi modo di raccontarvi in qualche modo la storia delle ultime settimane. Però un titolo è che in Libano Israele ha iniziato un'escalation militare senza precedenti da metà settembre, quindi dall'altro ieri sostanzialmente, e l'estensione della devastazione israeliana, l'estensione e anche la profondità della devastazione israeliana infrastrutturale, umanitaria, effettivamente non ha dei precedenti, almeno per gli ultimi decenni. Io ho vissuto personalmente la guerra del 2006, ero arrivato da pochi anni in Libano, dove ho vissuto fino all'altro giorno, e finora il 2006 era un po' il termine di riferimento della distruzione di Israele negli ultimi vent'anni. Ecco, quello che sta succedendo dal 17 settembre in poi, con gli attacchi a cerca persone contro varie strutture di Hezbollah e militari, politiche e istituzionali, culminata con l'uccisione del leader Hassan Nasrallah e poi con tutta una serie di bombardamenti a tappeto, per continuare con l'inizio dell'invasione terrestre il primo di ottobre, tutto questo è raccontato nella carta di Laura, ovviamente molto densa come non può essere altrimenti, e che ci mostra innanzitutto un sud del Libano, a ridosso della Galilea israeliana, un sud del Libano bombardato a tappeto. Lo era già dall'ottobre del 2023, da quando Hezbollah ha partecipato all'offensiva di Hamas, il giorno dopo il 7 ottobre, cominciando a sparare razzi, droni sull'Alta Galilea e spingendo Israele a un'offensiva che gradualmente si è inasprita fino al 17 settembre scorso. Ma poi i bombardamenti israeliani sono a tappeto anche nella valle della Bekaa, vicino al confine con la Siria, che costituisce un po' le retrovie, il polmone logistico di Hezbollah, tra l'altro il corridoio che poi vedremo in un'altra carta, il corridoio che da anni rifornisce Hezbollah dall'Iran, passando per l'Iraq, per la Siria, fino ad arrivare proprio alla valle dell'Oronte, scendendo fino a Baalbek, tra l'altro luogo di rovine di epoca romana, colpite indirettamente, almeno fino oggi, ma forse direttamente domani, patrimonio dell'UNESCO da Israele qualche giorno fa, e prosegue poi in una linea più o meno di continuità fino al fiume Litani e scende poi verso il sud del Libano. Un'altra area fortemente bombardata, qui non è segnata perché la carta è sul confine incandescente, non è una carta di tutto il Libano bombardato, Laura perdonami se sconfino tra una carta e l'altra, l'altra area bombardata pesantemente è la periferia sud di Beirut. Non dobbiamo mai in qualche modo annoiarci di ricordare che la periferia sud di Beirut è parte integrante della città di Beirut, non è un qualcosa di avulso, staccato, come dire la periferia di Genova, ci sono dei quartieri periferici rispetto a quartieri centrali, sono bombardati, è bombardata la città di Beirut. In qualche modo dire periferia sud di Beirut non è meno grave dire bombardata Beirut, che è la capitale di un paese. Mi fermo qui perché ovviamente i rispunti possono essere tanti, ma poi avrete voglia di leggervelo il volume e non di stare ad ascoltarci tutto il tempo. Possiamo andare su altre carte? Laura, secondo... Vi racconto solo qualche dettaglio della Cisgiordania. Dice perché ci complichi così la vita. Questa è una situazione anche semplice. Immaginate io nelle mappe, quando disegno una mappa, ho sempre un focus, cioè io devo rappresentare una cosa che è legata all'articolo dell'autore sostanzialmente. Infatti dentro l'IMES, essendo diviso in queste tre parti, poi c'è la parte con gli analisti stranieri e se ci sono delle mappe sono legate alla loro analisi, al loro punto di vista. La Cisgiordania è un po' più grande del Molise, sempre per fare un po' un abbinamento geografico, e in questa mappa mancano tante cose che la renderebbero molto più caotica, diciamo dal punto di vista di... per poterla leggere, che però sono molto importanti perché mancano tutte le strade che vengono percorse dagli israeliani. Forse avrete visto alcune immagini, si vede il muro che fa il muro di separazione, che fa delle grandi curve, perché dentro c'è una strada. Ecco, quelle sono strade che percorrono, si possono percorrere in modo abbastanza fluido, io aspetto sempre che questo si accenda, mentre invece la vita dei palestinesi è interrotta sulle strade dai checkpoint e da blocchi anche improvvisi, cioè non è che sono posti fissi, sono posti che a seconda non solo, ma molti non hanno la documentazione giusta e quindi spesso vengono fermati, arrestati eccetera, perché diciamo l'obiettivo sarebbe quello di liberare la strategia di Israele, quella di liberarsi il più possibile dai palestinesi, questo mi sembra chiaro, questo non funziona più. Allora io passo al mio. Grazie, non so capace. Ecco, non so perché, forse io lo tengo al contrario? La lentezza non è il mio forte. Allora, mamma mia, vieni giù. Ecco, diciamo che qui la cosa che io ho cercato di fare, eliminando un po' di dettagli che non ci servivano, è farvi vedere, per i lettori naturalmente di Limes, queste zone arancioni così, che neanche, forse neanche sarebbero giuste così forti arancioni, perché ha un colore che è più legato a quello che io ho scelto per i palestinesi, no? Vedete? Invece sarebbe questo qui, zone chiuse, zone di, vengono chiamate zone di fuoco dagli israeliani, che sono aree chiuse esistenti e progettate dietro la barriera. L'accesso è limitato ai possessori di permesso, quindi praticamente è una zona militare e infatti, qui vedrete sulla rivista si vede meglio, ci sono tanti pezzettini neri che sono proprio basi militari. Ma perché tutta questa fascia qui? Perché ovviamente qui c'è il confine con la Giordania, il fiume Giordano è molto depauperato dall'acqua perché in cima l'acqua viene deviata un po' per tutta Israele, poi anche la Giordania ne fa un largo uso per la vegetazione, per la sua popolazione, per l'agricoltura, quindi insomma, anche se il Mar Morto rappresenta poi una riserva, non solo una grande riserva idrica, ma anche proprio, è importante avere questa separazione, questo mare che allontana. Quindi diciamo, tutta questa linea di spessore intanto isola la città di Gerico che è palestinese e poi intorno ci sono queste zone blu, quindi queste zone blu che sono l'area municipalizzata israeliana, quindi diciamo costruita, insomma, zona edificata è questa che può essere costruita. Ma vedete qua, qui si è costruito proprio un corridoio di collegamento tra Gerusalemme, perché questa linea blu è la linea della municipalità di Israele e quindi qui è tutta un'area israeliana che taglia in due la Giordania, quindi vi ricordate il corridoio di Gaza? Ecco, da queste cose si può analizzare un po' il territorio, vedere quello che fanno e andare a vedere quello che è già stato fatto e c'è un buon riscontro. In questo momento, diciamo, i soldati israeliani si sono piazzati un po' qui a Tulkarim, proprio perché i grandi scontri anche con i palestinesi soprattutto avvengono qua, ma comunque se andate a vedere le fattorie sparse in quest'area qui, perché vedete qui ci sono delle zone arancioni, quindi palestinesi, ce ne sono un po' dappertutto, qui piccoline, che sono, ecco qui l'ho cerchiata di nero perché qui c'è stato proprio una scuola che è stata attaccata. Quindi sì, sono atti di violenza che possono sembrare gratuiti, ma andarli a posizionare sulla mappa e andare a vedere, sono proprio in luoghi specifici dove serve di spostare questa popolazione. Quindi si sta approfittando di questo momento di politica di fuoco aperto che fa Israele per spostare il più possibile o anche uccidere, se serve, la popolazione. Quindi diciamo questo, guardate questo verdino, ecco l'area C, pieno controllo israeliano per la sicurezza, pianificazione e costruzione. Quindi sostanzialmente questa zona tutta celestina sotto è tutta un'area in cui loro possono costruire altri insediamenti. Poi se andate a vedere, andate su Google Maps e vi divertite un attimo a ingrandire questi. Vedrete che gli insediamenti israeliani sono costruiti quasi tutti a cerchio, un po' come, non so se conoscete Palmanova in Friuli Venezia Giulia, queste città cuneo che hanno questo nucleo fortificato da Napoleone come città militari. Ecco, hanno un po' quella struttura, cioè c'è una strada intorno, ci sono tutte case a semicerchio o a cerchio e quindi si vede, poi sono costruite magari su delle alture e quindi hanno una visione del territorio molto ampia e sono non solo che vedro ma sono anche fortificate. Quindi poi dopo invece vedete accanto i villaggi palestinesi che sono tutti molto più disordinati e più, non c'è una struttura ma non è che è solo colpa loro e che ovviamente con i mezzi che hanno fanno quello che è possibile fare. Quindi ecco diciamo che da questo caos forse adesso possiamo vedere un po' meglio. Ritorniamo sul Libano? quella grande? Sì, prego. Mani sulla Giordania perché vorrei citare un passo breve dell'editoriale del direttore Lucio Caraccio a proposito della strategia di lungo termine di Israele. Si riferisce agli israeliani, lo prendo dal centro di un periodo più lungo, un periodo narrativo più lungo. Da due generazioni, cito il direttore, da due generazioni gli israeliani occupano territori strappati agli arabi nel 1967, si riferisce alla Cisgiordania, dove si sono insediati mezzo milione di ebrei sponsorizzati dai vari governi, anche laici e di sinistra, onde stroncare l'ipotesi dei due stati, ritornello delle anime belle o solo pigre. E questo lo cito collegandomi alla carta di Laura sulla Cisgiordania perché periodicamente i governanti, anche i governanti italiani, quale che sia il governo, anche l'ultimo, ripetono in qualche modo questo ritornello che l'unica soluzione è la spartizione di due stati, due popoli. Appunto come ci ricorda Lucio Caraccio nell'editoriale è un ritornello in realtà sempre più vuoto, la realtà sul terreno anche prima del 7 ottobre. Lo dimostra chiaramente, è un ritornello che non ha alcuna, in qualche modo appiglio con la realtà, né con la diplomazia né tantomeno con la guerra in corso. Quindi per essere società civile critiche e consapevole quando ascoltiamo dai nostri governanti o rappresentanti istituzionali, locali o centrali questa storiella dei due popoli, dei due stati, ricordiamoci di quello che sta avvenendo sul terreno ben prima del 7 ottobre ovviamente, però dal 7 ottobre in poi questa cosa si sta intensificando, si sta accelerando. Possiamo continuare Laura? Passiamo al Libano, così l'altra mappa è avanti vero? Ok, questa? Ok, va bene. Sì. Ah giusto, diciamo che bisogna prendere in considerazione che gli Stati Uniti mentre prima avevano, si erano molto allontanati, un po' allontanati da questa area, creando anche forse l'origine di scompiglio nel Medio Oriente proprio dal punto di vista anche petrolifero e del gas perché loro sono diventati autonomi e non solo, anche esportatori di gas in questo progetto di emanciparsi proprio dal Medio Oriente e quindi chiaramente loro sono diventati un paese che non compra più e quindi si è aperto tutto un mercato anche dal punto di vista tra l'Iran, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, chi accaparrarsi anche altre fette di mercato. Sappiamo benissimo che l'India e la Cina ormai sono i loro clienti più importanti. Comunque qui in questa area, in questa mappa qui, io ho disegnato dei corridoi terrestri, questi qui tu quando quella si attiva passo all'altra, che passano da questo porto qua che è sotto Dubai come vedete, tra Abu Dhabi è un porto importantissimo, molto grande e molto... eccoci... guarda, non lo so, è il mio dito che non funziona, funziona? Non ho coraggio di guardare. E quindi le navi che arrivano dall'India, comunque dalla rotta dallo stretto di Malacca, arrivano qui perché naturalmente le navi israeliane vengono attaccate più di tutti nel Mar Rosso, per cui scaricano qui i container e il collegamento tra l'Arabia Saudita, Giordania e Israele, secondo gli accordi di Abramo, anche se l'Arabia Saudita è il paese che sta trattando l'ingresso, come ormai sappiamo tutti che dal 7 ottobre, cioè quando era più vicino, ovviamente ha dovuto fermare questo accordo. Però comunque collabora con questo trasporto di merci. E che cosa succede? Che queste merci attraverso il deserto arrivano nel porto di Haifa e anche Ashdod, che sono i due porti principali di Israele. Considerate che prima, ovviamente è il lattero quello più strategico, ma se guardate la cifra è calato almeno 85%, è praticamente in bancarotta, poi probabilmente in un futuro migliore si riprenderà. Ma anche questi, come vi dicevo prima, meno 74% Jedda, meno 50% Porto Salala, quindi Oman. Quindi insomma qui è veramente abbastanza una catastrofe questa situazione e anche per l'Egitto, perché l'Egitto ovviamente è strategico grazie al canale di Suez e tutti i cavi sottomarini che arrivano dall'Asia, passano qua, passano sotto il Mar Rosso, poi però saltano il canale, arrivano su terra, approdano qui e all'altezza di Alessandria si inabbissano nel Mediterraneo. I cavi sono molto delicati, cioè basta un'ancora di una nave per strapparli, quindi insomma anche un terremoto, noi tante volte non vediamo recentemente in Algeria, davanti all'Algeria quattro cavi si sono danneggiati con un terremoto, perché c'è stata una frana sotto il mare, ecco per dire di eventi diciamo che li interrompono ce ne sono tanti. E poi invece abbiamo disegnato questo corridoio che viene descritto da Antonella Caruso, che è un'idea, in realtà questo porto al Fav lo stanno un po' già costruendo, però l'idea sarebbe un po' anche una far riuscire l'Iraq da questa guerra ormai che dura da 24 anni anche di più, per trasportare petrolio. È un corridoio, quando si parla di corridoi sono ovviamente fibre ottiche, pipeline, strade, ferrovie, quindi questo dovrebbe diventare un corridoio che arriva qui a Mersin in Turchia per l'esportazione soprattutto del petrolio e del gas. Qui ci sono tantissimi giacimenti, come vedete passa proprio al di là del Kurdistan iracheno, mentre adesso c'è una condotta che passa proprio del Kurdistan, arriva in Turchia e va verso l'esportazione. Quindi insomma anche qui questo è un po' un sogno, io l'avevo chiamato il sogno iracheno perché mi sembra un po' difficile che negli ultimi anni noi riusciremo a vedere questo, che sarebbe molto bello, ma insomma mi sembra un po' difficile. Questi corridoi, intanto è impensabile che noi possiamo sostituire il commercio marittimo con i corridoi terrestri, qualsiasi corridoio terrestri, c'è proprio una cosa, un'idea che non va proprio neanche pensata, forse con dei treni veloci, con delle, ma insomma la quantità di merci che viene trasportata in mare è proprio... Poi noi pensiamo ai porta container, ma per esempio nel Mediterraneo la cosa più importante sono i rorò, cioè il trasporto auto e i liquidi, quindi diciamo tutto altro tipo di merci, quindi noi dobbiamo un po' pensare, uscire un po' da questa cosa del container, porta container, penso che abbiamo ben altro che ci interessa nel mar Mediterraneo e in questo momento gli americani stanno investendo parecchio a Trieste perché Trieste è un porto, intanto che ha un oleodotto che va fino in Baviera, importantissimo, infatti il porto di Trieste lavora soprattutto per il petrolio e poi lì ci sono delle basi di Aviano, delle basi importanti militari, quindi il porto serve anche per servire queste basi per far arrivare il materiale strategico, non solo armi naturalmente. E questo anche Ashdod è un porto che sta qui, che è importantissimo per Israele ed è molto, hanno fatto dei lavori recentemente, ha continuato a funzionare anche sotto attacco, quindi è un porto strutturato anche per stare dove sta, quindi vicino alla striscia di Gaza. E Trieste sta diventando un connettore, diciamo, del Mediterraneo con tutto il Trimarium, come i paesi del Trimarium, quindi il fronte est della NATO. Per questo sta avendo un'importanza notevole. Vogliamo aggiungere tu? Sì, grazie Laura. Questa carta racconta in maniera esplicita l'importanza storica che Israele ha per gli Stati Uniti, per quanto appunto ci possono essere dei periodi di fluttuazione della presenza statunitense militare, statunitense nel Mediterraneo, però diciamo dal secondo dopoguerra oggi gli Stati Uniti hanno in qualche modo raccolto l'eredità coloniale britannica e si sono diventati in qualche modo la potenza occidentale dominante nel Mediterraneo e cercano e continueranno a cercare di mantenere aperto il corridoio con l'Oceano Indiano. Tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Atlantico, oltre a esserci il Mediterraneo, c'è la penisola araba, c'è il Medio Oriente, quindi Israele, la Giordania, l'Egitto, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, sono dei paesi che se uniti offrono effettivamente un corridoio geografico e politico essenziale per il collegamento. Un vecchio progetto coloniale, che oggi potrebbe essere definito nuovo progetto coloniale, che è rappresentato dal corridoio IMEC, che è un acronimo in inglese delle iniziali dei paesi coinvolti, dall'India fino al Mediterraneo passando appunto per Israele e l'Arabia Saudita. Nell'ultima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, non so se qualcuno di voi si ricorda l'intervento proprio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha mostrato due carte, l'uso della cartografia all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non è una novità, una cartografia ovviamente soggettiva, una carta rappresentava quella che Netanyahu ha definito la benedizione, ovvero la salvaguardia di questo corridoio statunitense con Israele al centro del corridoio, l'altra invece è la maledizione, dove c'era secondo Netanyahu l'asse iraniano con l'Iraq, la Siria, Hezbollah sul Mediterraneo, che in qualche modo avrebbe o potrebbe in qualche modo rovinare la festa al corridoio IMEC, al progetto statunitense israeliano. Ecco, lungo i luoghi dell'incrocio o delle frizioni fra questi due assi, immaginiamo un'asse che da nord scende verso sud-est e un altro che da est va verso ovest, verso il Mediterraneo. Se uniamo tutti i punti dove queste due spinte, queste proiezioni antagoniste si incrociano, guarda caso notiamo focolai di violenza armata, conflitti armati o comunque messi a tacere per un po' con delle treguede, c'è stato il fuoco ma periodicamente sempre accesi. Siamo in un contesto in cui, come ricordava Laura, la risultante economica, politica, commerciale che si riceve qui in Italia è frutto anche di dinamiche che apparentemente geograficamente sono lontane da noi ma in realtà sono assai più vicini a noi. Tra l'altro Lucio ricordava le difficoltà che Genova ha avuto nell'attrarre in qualche modo l'interesse del patto atlantico a scapito invece di Trieste. Genova e tutti i collegamenti infrastrutturali, perché questi ragionamenti sui corridoi li dobbiamo sempre ovviamente trasportare anche nei nostri contesti, il Medio Oriente non è un'eccezione. Ecco, dell'Europa settentrionali in questo momento sono stati spostati nella parte invece orientale dell'Italia, anche questo è un tema molto rilevante che ha a che fare con tutta questa storia qui. Non so, guardo gli organizzatori per capire ancora quanto tempo abbiamo, io e Laura, prima di dare spazio anche alle vostre sollecitazioni. Mi riferisco ai fatti del 7 ottobre del 23, che sono l'inizio di questo riaprirsi del dramma acutissimo del Mediterraneo. È un pensiero folle o è un pensiero che può avere qualche conferma? L'idea che la mancata avvertenza, il mancato avvertimento di questi fatti che hanno provocato tutti i morti e tutti gli ostaggi che sappiamo sia stato in qualche modo sottovalutato, come dire, consapevolmente dalle autorità israeliane? È un pensiero troppo malvagio? Oppure, forse aveva ragione Andreotti che quando diceva che a pensare male si fa peccato, ma a volte si indovina? Grazie. Non abbiamo prove per spingerci in questa teoria che alcuni definiscono complottista, ovvero il complottismo è dove c'è effettivamente un piano preordinato e si immagina una sequenza di eventi e di reazioni agli eventi per arrivare a un punto, un obiettivo. Io mi occupo, sono di formazione storico e appunto da 25 anni, da metà della mia vita più o meno osservo da Beirut, dal Medio Oriente, i rapporti di causa e effetto tra una serie di eventi molto locali, poi su scala regionale, internazionale. Devo dire che col passare degli anni mi sono diventato assai più laico rispetto alla forza del complotto. Non voglio negare ciò che non posso negare, perché come ho premesso non ho le informazioni in qualche modo confidenziali, sennò forse farei un altro lavoro rispetto al giornalista e al divulgatore. Però per quello che ho osservato io credo che effettivamente Israele abbia sottovalutato, per tutta una serie di ragioni, tra l'altro appunto nell'editoriale sono elencate, la capacità di Hamas, la volontà di Hamas, l'indebolimento delle forze israeliane in quel settore, in quel quadrante meridionale israeliano. Ma da qui a immaginare che ci possa essere stato un disegno per cui di sottovalutare, per avere in qualche modo la legittimità di agire poi come si è agito dopo, la vedo molto difficile da immaginare, perché le linee su cui ciascun fatto si muove sono per loro natura intersecabili da altre linee, perché gli attori sul terreno, come in parte abbiamo visto, sono numerosi e ciascuno agisce secondo delle proprie logiche, ma gli eventi stessi che si accumulano in questa sequenza di causa-effetto intervengono continuamente. Per cui l'abilità di un politico, qui senza dare giudizi morali su quello o su quell'altro, è quella di riaccogliere le opportunità che questa sequenza offre. Ma qui non c'è complottismo. In Netanyahu ci può essere stato, e c'è sicuramente, parliamo da una prospettiva israeliana, ma possiamo farlo con quella di Ahmad Sinwar o di altri, ci può essere stata la consapevolezza in determinati momenti di questa crisi, partiamo dal 7 ottobre, anche se la storia ovviamente è un po' più complicata, che quel fatto potrebbe aprire una serie di scenari e quindi io agisco in quella maniera in modo da sperare che le cose vadano in quella direzione, ma spero, non posso esserne sicuro. È una partita a scacchi con numerosi attori che si muovono, non soltanto con un altro attore. È davvero difficile immaginare, è come dire, per ricordarci, e siamo credo tutti un po' abbastanza maturi per ricordare l'11 settembre, a lungo si è detto, ancora oggi si dice che sono stati gli attacchi causati da altri attori per poi lanciare la guerra in Afghanistan, vi ricordate. Sono davvero delle ricostruzioni a posteriori che lasciano il tempo che trovano. La storia, gli archivi, Israele ha degli archivi, magari tra 30, 40, 50 anni potranno svelare delle informazioni più interessanti. Attualmente io non ho, se non il buon senso, di allontanarmi da quest'idea. Sì, buonasera. Secondo voi il risultato delle elezioni americane, in che modo potranno influenzare la questione israelo-palestinese? Grazie. Grazie per la domanda, perché era in qualche modo l'ultima considerazione fatta sulla mappa che era alle mie spalle, quella sulla regione, sul corridoio Imec, chiamiamolo così, preparava questa risposta, che mi è stata rivolta anche prima di entrare qui dall'ufficio della comunicazione di Palazzo Ducale, che è un po' la domanda di questi giorni. In realtà gli Stati Uniti, quale che sia l'inquilino della Casa Bianca, non cambieranno la loro politica nei confronti di Israele. Israele, ricordiamocelo, tanto per mettere in qualche modo i fissi paletti della storia. Già dalla metà del 1800, con il progetto sionista, che gradualmente fino alla Prima Guerra Mondiale poi viene adottato dalla Gran Bretagna, potenza coloniale, Israele nasce anche, non soltanto ovviamente, ma da un'ottica occidentale, britannica e poi statunitense dopo guerra, la sua natura coloniale è molto forte, da una prospettiva qui non israeliana necessariamente, ma statunitense. In un'ottica di costruire delle alleanze, delle clientele molto nette, perché l'Egitto di Abdel Fattah Sisi, lo stesso che è responsabile della tortura di Giulio Reggeni, tanto per così ritornare sempre sull'Italia ogni tanto, è un cliente degli Stati Uniti, perché serve quella posizione geografica, politica degli Stati Uniti. Analogamente la Giordania di Reabdalla, di cui il 60%, 65% della popolazione giordana è di origine palestinese, perché? Perché sono stati deportati in massa al 48, fu creata la Transgiordania, uno degli obiettivi era proprio quello di creare uno scatolone statuale che potesse in prospettiva occuparsi, ospitare la quantità di palestinesi che nel 48, ma anche prima, nel 36, nel 39, adesso qui non mi dilungo nella storia, sono stati cacciati 700 mila, parliamo di cifre bibliche, verso est. Quindi Israele è anche, non soltanto dalla prospettiva americana, l'interlocutore fondamentale. Non lo vediamo soltanto con la fornitura di armi, lo vediamo con tutta una serie di azioni. Quindi cosa può cambiare tra Trump e Harris? Qui l'elemento di discontinuità è minimo rispetto a quello che ho detto prima. Trump è un alleato di Benjamin Netanyahu, è un alleato anche che si sa farsi sentire. Mentre Harris o Biden prima di lei non avevano costruito un rapporto di fiducia e quindi anche di leverage, di capacità di esercitare pressione, Trump potrà farlo. È già detto prima dell'annuncio della sua vittoria elettorale, pochi giorni prima, parlando alle comunità arabe, musulmane, in qualche modo più attenti al Medio Oriente e negli Stati Uniti, che lui intende mettere fine a questa guerra. Ora, l'idea che Trump ha della fine di una guerra, anche qui è tutto a contestualizzare. Apro una breve parentesi. Trump qualche giorno fa ha detto io ho sconfitto l'Isis. L'Isis non è stato sconfitto, nemmeno militarmente. È stato sconfitto nella sua forma protostatuale dal 2014 al 2019 e Trump si è messo la medaglietta per dire io ho sconfitto l'Isis, ma l'Isis è un'insurrezione locale che continua a essere presente senza qui anche prendere parte contro o con quegli altri, ma quando Trump parla di fine di una guerra non necessariamente dobbiamo immaginarci la pace in Medio Oriente. Probabilmente a lui basterà arrivare a un cesto del fuoco, a chiudere i lavori già aperti, a chiudere il cantiere che Netanyahu ha aperto, ma il cantiere che Netanyahu ha aperto potrà essere chiuso con un cesto del fuoco, una tregua più o meno limitata, ma sappiamo che sono delle parentesi, come dice l'editoriale, sono parentesi in una continuità di guerra. Quindi Israele rimane sull'offensiva, bisognerà capire quanto Trump riuscirà a contenere Netanyahu in Libano e cosa sarà del dopo Hamas a Gaza, se ci sarà un dopo Hamas a Gaza, un alleato sicuramente più robusto e che si farà sentire maggiormente, ma la strategia non cambierà. Sì, perché poi finire la guerra non vuol dire risolvere i problemi per i quali sono nate. Buonasera, volevo chiedere se la soluzione o comunque l'immagine della soluzione dei due popoli e due stati non è praticabile per le ragioni che ci avete prospettato, che cosa potrebbe essere immaginabile in futuro in quella zona e soprattutto fino a quando i paesi di influenza araba sopporteranno questa pressione occidentale in quella zona, se non andrà in qualche modo a risolversi in qualche modo, perché sembra irrisolvibile completamente. Ai miei occhi è un rebus. È un rebus difficilissimo da risolvere. Io l'altro giorno pensavo, ma se noi proponessimo di prenderci dei palestinesi, verrebbero? Qui se no vorrei aggiungere questa domanda al mio collega. E poi forse potrebbe anche essere solo un gesto per smuovere un po', perché anche i paesi intorno non è così facile, perché se voi andate a vedere la popolazione per esempio che sta nel sud di Beirut, che vive nel campo profughi palestinese, sono persone molto indottrinate dai vari gruppi terroristici per creare, quindi non è una popolazione semplice, anche per quello è il motivo, per cui anche tutti i paesi intorno probabilmente è difficile farsene carico. Però potrebbe essere un'idea forse quella di fare una richiesta per vedere anche cosa potrebbe succedere, invece di starsi a fare dimostrazioni contro israeliani nelle varie parti europee o del mondo. Queste sono le domande a cui è più difficile rispondere, però forse sono anche le più a cui come società civile vi chiamo in causa, italiani figli di una Costituzione che ribadisce la parità di diritti e di doveri al di là delle appartenenze comunitarie, sia campaniliste nel caso italiano, sia religiose, ideologiche, etniche, nel caso appunto dove in Medio Oriente invece le differenze etniche e religiose vengono spesso enfatizzate, quindi è più facile tracciare delle linee di divisione, mentre in Italia ancora è più difficile identificarci in maniera diversa al di là del campanilismo geografico. Ecco, immaginiamo di applicare la Costituzione italiana, almeno i vari principi, al fatto che i cittadini che nascono in quei territori, in questo caso territori palestinesi e israeliani, hanno pari ai diritti e ai doveri. Non si sa perché, a tre ore di volo da Roma, continuiamo a pensare che i valori che ci muovono ogni giorno, che ci fanno stare qua e parlare più o meno liberamente, non possono essere applicati dall'altra parte del Mediterraneo. E continuiamo invece a descrivere il Medio Oriente come un fuocolaio di guerra, trossonniti, usciti, poveri cristiani, gli islam di qua, i terroristi di là, gli israeliani che hanno diritto di esistere, i palestinesi che vengono deportati, tutti, tutta una sola struttura, anche molto orientalista, esotista, che appanna lo sguardo. Quindi, per provare a rispondere, immaginiamo un unico Stato dove si rinuncia alla supremazia di un gruppo etnico religioso e si mette una linea. Chi nasce qua ha gli stessi diritti e doveri. Chi nasce qua è in questo Stato, dal Giordano al Mediterraneo, dalla Galilea al Negev, al Mar Rosso. Ah, uno diceva, ma così mettiamo all'aria il progetto coloniale sionista, mettiamo all'aria tutto il progetto dello Stato ebraico, perché Israele, la bandiera e tutto quanto, alla stella di Davide. L'Arabia Saudita è un altro di questi progetti religiosi dove l'elemento di richiamo religioso è nel vessillo. L'Iran, un altro. Siamo in un contesto in cui queste elite dominanti che usano la religione per strumenti politici e egemonici hanno la meglio e le elite nostrane, quelle che difendono i principi della nostra Costituzione inclusiva, paritaria, sostengono queste elite in un modo o nell'altro. Non soltanto ho citato Sisi prima, ma Israele stesso, l'Iran, l'Arabia Saudita, tutti gli attori che abbiamo notato. Ecco, se in qualche modo il modello di Stato inclusivo, paritario, dovesse sbarcare in Medio Oriente, forse in Israele e Palestina sarebbe il primo momento. E poi come un domino cosa farebbero tutti gli altri? Lo stesso Libano, che è un altro progetto coloniale, ritagliato addosso a dei maroniti cattolici, lo dico perché non tutti sanno che i maroniti sono cattolici, dai francesi soltanto cento anni fa, qualche modo cento anni fa, con la caduta dell'impero ottomano, hanno non gli attori locali, ma una serie di potenze in quel momento erano forti, hanno ridisegnato la Regione seguendo delle linee comunitarie, cosa che da noi non è accettabile oggi nel 2024. Quindi ovviamente può sembrare una provocazione, c'è chi potrebbe perdere anche il lavoro per dire in Italia questa cosa, però la soluzione sarebbe uno Stato inclusivo, con un'ispirazione anche alla Costituzione italiana. I palestinesi, ma già scappano Laura se possono già scappano, conosco moltissimi palestinesi, io in questo momento vivo a Roma, che sono scappati per cercare un futuro migliore, non per questo hanno rinunciato al loro attaccamento alla Palestina, non sono arabi come gli israeliani li descrivono, sono palestinesi, sentono palestinesi, le parole sono importanti, ma moltissimi altri no. Un'immagine molto significativa di qualche giorno fa, che mi è stata passata proprio da una collega palestinese da Gaza, è dei bambini che studiano o ascoltano gli insegnamenti di un insegnante in una tenda anche molto affaticente e slabbrata e fuori dalla tenda c'è la devastazione di quello che è attualmente Gaza, come ricordava Laura. Qualche modo continuare a studiare o fare uno pseudo studio in quel contesto è una forma di resistenza a un progetto che è considerato un progetto estraneo alla Regione, perché cercando di raccontare le varie prospettive non dobbiamo mai dimenticare quella. Facilitare la deportazione di palestinesi in massa verso l'Europa, prendiamoceli noi, non so quanto possa essere in qualche modo auspicabile. Da un punto di vista pratico forse sì, ma da un punto di vista dei diritti, voi accettereste di lasciare Genova improvvisamente, di essere accolti in massa chissà dove, sulla base del fatto che voi siete genovesi e poi ciascuno andrebbe a guardare effettivamente da dove inizia il vostro essere genovesi. Entriamo davvero in un ginepraio. Ecco, tre ore di volo da qua. Perché accettiamo che i nostri principi non vengano rispettati a tre ore di volo da qua? Perché poi queste cose ci riguardano. I migranti che arrivano, palestinesi ce ne sono pochi per tutta una serie di ragioni, ma siriani, libanesi, iracheni, palestinesi della diaspora, per non parlare di altri teatri di cui mi occupo poco, come dalla Libia, adesso non apro il settore del Nord Africa, ma anche lì ci sarebbe da parlare a lungo. Ecco, tutte queste cose ci riguardano, non soltanto per il gas, per le risorse che continuiamo a sfruttare con un'ottica di sfruttamento del territorio, non certo di arricchimento. L'ISI stesso non è altro che una reazione a un problema di governance, di inclusività. Quelle popolazioni hanno detto a un certo punto che a noi non va bene così. Poi li possiamo identificare come terroristi. I terroristi non sono un soggetto politico, non esiste il terrorista come soggetto, esiste il terrorismo come strumento di azione politica, che segue la logica della politica, non c'è una logica nel terrorismo. Il terrorista non è un attore, con i movimenti terroristi è la persona del terrorismo. Io posso diventare terrorista se uso certe forme di violenza armata politica e non la modalità, però anche qui continuare a dare l'etichetta del terrorista delle individui o comunità ci fa in qualche modo guardare il dito e non la luna. Scusate, l'ho fatta lunga, però secondo me i pezzi vanno un po' risistemati, partendo dalla nostra Costituzione. Se no, almeno quella la conosciamo. Qualcun altro? Io ho un vicino palestinese che sta a Roma dal 1270 circa, ha più o meno della nostra età, qualche anno di più. La moglie degli Emirati Arabi hanno due bambini, sono vestiti tradizionali sempre e infatti loro, se potessero, tornerebbero. Si vede che, anche parlandoci, il loro cuore, il loro sentimento, si sentono in esilio da sempre. Per dare voce alla prospettiva israeliana, in questi giorni sto rileggendo con piacere un volumetto edito dalla EO italiana, pochissime pagine, di Abraham Yoshua, uno scrittore intellettuale israeliano molto conosciuto. Il volumetto si intitola Ebreo-Israeliano-Sionista, concetti da precisare. Mi era venuto in mente, dopo aver sentito come i media italiani, in particolare i media quelli definiti più ufficiali, mainstream, hanno raccontato le violenze di qualche giorno fa ad Amsterdam. Hanno fatto partire la sequenza del racconto da un momento, senza raccontare tutto quello che era successo nelle ore precedenti, tutte le provocazioni che i tifosi invece israeliani avevano in qualche modo avanzato in maniera anche molto violenta e volgare nei confronti della Palestina e di Gaza. Però ho ritrovato questa frase di Yoshua che me la sono portata, penso che possa aiutarci a entrare nella vivacità del dibattito interno a Israele e in generale interno all'ebraismo, anche l'ebraismo politico. È un testo tra l'altro scritto negli anni Ottanta, che però ho trovato molto attuale, proprio alla luce di quello che ho sentito dai telegiornali. Ecco, qui lui parla del soggetto dello Stato di Israele, ma immaginiamo anche di allargare questo soggetto ai media, anche italiani, ma non soltanto italiani, che rafforzano questa strategia anche propagandista dell'attuale governo di Benjamin Netanyahu. E dice Yoshua nel 1981, la prima stesura di questo testo, la strategia adottata dallo Stato di Israele di considerare ogni antisionista come antisemita non farà diminuire il numero degli antisionisti, ma farà crescere quello degli antisemiti. E questa l'ho trovata molto illuminante, proprio alla luce dell'equazione che si fa, dopo il 7 ottobre in maniera evidente, quasi caccia alle streghe, che si fa quando si cerca di contestualizzare, storicizzare il fenomeno dello Stato di Israele e del progetto sionista, immediatamente si levano gli scudi, appunto anche c'è gente che perde il lavoro, definendolo, quella persona, quell'attore politico, un antisemita. Ecco, Yoshua fa una riflessione molto interessante. E Anna Foa nel secondo articolo, e qui chiudo tanto per tornare all'inizio della nostra presentazione, Anna Foa nel secondo articolo che trovate nella prima parte del volume di Limes, intitolato Il nuovo antisemitismo e la fine dell'eccezionalismo ebraico. Anna Foa è un'altra esponente italiana dell'ebraismo internazionale che è molto critica nei confronti di questo governo e che in qualche modo va a sostegno della tesi anche di Yoshua, secondo cui l'antisemitismo che sta crescendo, Amsterdam può essere identificato come la punta dell'iceberg, in realtà dietro a tutta una serie di cause e di effetti, a proposito di cause e di effetti che non possono essere spiegate con il complottismo, che vengono da lontano e che hanno a che fare proprio, per esempio, con lo stigma di antisemita a chiunque provi a contestualizzare quello che sta attualmente facendo Benjamin Netanyahu. Grazie. Grazie a tutti.